Le voci da Cremona si fanno sempre più insistenti. La società grigio-rossa avrebbe messo il nome di Massimiliano Alvini in cima alla lista delle preferenze per sostituire il dimissionario Fabio Pecchia, che molto probabilmente andrà al Parma. Arie Dobraida e Simone Giacchetta sono al lavoro per un'operazione sicuramente non semplice, visto che l'attuale tecnico del grifo ha prolungato fino al 2024 con il club bianco-rosso. Un mese fa Alvini, proprio negli studi di Tef Channel durante la trasmissione Grifo Stadium, aveva parlato così della possibilità di allenare una squadra di Serie A. Allenare il Perugia è straordinario, è gratificante e non c'è nessuna squadra che mi può dare soddisfazione oggi in Serie B più del Perugia, quindi io voglio allenare il Perugia in Serie B. Se può arrivare una squadra di Serie A, questo è un altro discorso perché per ognuno l'ambizione di allenare in Serie A è il massimo. La situazione sarebbe molto diversa da quella che ha riguardato Fabio Caserta lo scorso anno. In quel caso c'era la volontà del tecnico di lasciare Pian di Massiano per andare al Benevento ed erano stati determinanti anche i buoni rapporti tra Santo Padre e Vigorito. Per liberare Alvini invece le patron del grifo chiederebbero un indennizzo molto importante che vada a compensare una perdita grave, visto che con l'allenatore toscano è stato avviato un progetto tecnico di lungo periodo. È ovvio che sarà rilevante anche la volontà di Alvini, perché come detto dallo stesso allenatore negli studi di TEF, una chiamata dalla Serie A farebbe vacillare chiunque.